Pescara Roma su rotaie, 4 ore di viaggio in condizioni scadenti per una tratta che nel secolo scorso impiegava solo 3 ore. Il parlamentare Sel Gianni Melilla attacca duramente la regione per la disparità di trattamento dei collegamenti abruzzesi rispetto al resto d'Italia. A 24 ore dall'annuncio del consigliere regionale D'Alessandro, che invece prospettava una riduzione dei tempi di percorrenza e uno slancio verso il miglioramento del servizio. Speriamo che Trenitalia questa volta rispetti la promessa di un treno veloce su Pescara Roma, solo che questa promessa l'ha fatta pure l'anno scorso, l'ha fatta due anni fa, l'ha fatta tre anni fa. Quindi la regione deve essere molto attenta a costringere Trenitalia a trattare i cittadini abruzzesi come dei cittadini italiani, non di serie B. Perché purtroppo in questa regione il trasporto ferroviario è assolutamente insufficiente, carente, i treni utilizzati sono sporchi, d'inverno non riscaldano, non sono climatizzati d'estate, l'offerta di treni è insufficiente. I tempi di percorrenza sono inaccettabili per quanto riguarda per esempio la Pescara Roma, non è possibile andare a Roma in quattro ore quando nel secolo scorso ne impiegavamo tre. Quindi occorre intervenire prima che questa tratta ferroviaria sia soppressa, come è successo con la Pescara Napoli, perché se non è competitivo il cittadino sceglie un altro mezzo di trasporto per andare a Roma. E così sta succedendo, si ricorre al mezzo privato, alla macchina o all'autobus e via autostrada si va a Roma con due ore e mezzo.